Dopo il successo della prima rassegna stelle letterarie e cremeria letteraria Lucera torna ai consueti incontri con gli autori. Il 20 settembre scorso infatti è stato ospite della cremeria Francesco Carofiglio che ha presentato il suo ultimo libro Le nostre vite, edito da PM. Ha dialogato con l'autore Adelia Mazzeo. Stefano Sartor ha perso la memoria quando aveva 19 anni, vittima di un incidente che ha distrutto la sua famiglia. Ha ricostruito la sua esistenza grazie all'aiuto e alla dedizione del nonno, ma la sua è una vita mutilata, senza infanzia e senza giovinezza. Francesco Carofiglio, architetto, regista e illustratore, ha lavorato per molti anni come attore e autore teatrale. Scrive oggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione, nonché libri di successo.